SIDORF! Con il numero 7, Connexano! Con il numero 10, Trajan! SIDORF! Con il numero 13, E' Nessandro! NESTO! Con il numero 15, Gianluca! Samprosa! Con il numero 21, Andrea! Mirio! Con il numero 22, Marco! Luleano! Con il numero 23, Miquitano! Massimo! Con il numero 33, Diego! SIDORF! Con il numero 44, Massimo! Gattuso! E' Con il numero 80, Ronaldo Di Sistemi! Guardanti di O! A disposizione del verano, con il numero 4, Claudio! Con il numero 4, Gattuso! con il numero 8 Gattuso con il numero 9 Filippo Inzaghi con il numero 11 con la Siena con il numero 16 Mattiglio e con il numero 20 Ignazio Abate Nascimento del Lujo Viva Marco Arbitrante incontro Vene Spritz Assistente in Torsten Schiff Benvenuti In la casa del Viva 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 Grazie. Grazie.